Buongiorno, ci troviamo a Ostuni, presso lo Stuni Palace, ristorante San Filippo e vi presentiamo i nostri piatti tipici che noi proponiamo nel nostro ristorante e che oggi guardiamo insieme a voi. Allora adesso passiamo a un secondo di carne, che è il lagnello con le patate, un piatto classico della Puglia e vi dico subito gli ingredienti quali sono. Naturalmente l'agnello, l'alloro, rosmarino, aglio, cipolla, formaggio pecorino, prezzemolo, pomodori e patate e un po' di pepe. Adesso andiamo a fare la preparazione di questo piatto. Mettiamo 4 cucchiai di olio, mettiamo un po' di aglio, cipolla, una bella foglia d'alloro e un rametto di rosmarino. Prepariamo il tutto e gli diamo già la fiamma. Sistemiamo sopra l'agnello. Mettiamo una spolveratina appena appena di pepe. Un pizzico di sale, giusto quanto basta. E andiamo a farlo soffriggere. Adesso, che l'agnello si è rosolato un po', andiamo a bagnare con un po' di vino bianco. Una volta evaporato, lo facciamo evaporare un po'. Adesso passiamo ai pomodori. Aggiungiamo poco, giusto 4-5 per dare il colore. Aggiungiamo le patate. Facciamo amalgamare il tutto. Accendiamo il forno e gli mettiamo la temperatura per questo piatto a 180. Diamo i minuti. Gli diamo 15 minuti. E' pronto il soffritto che abbiamo preparato. Lo mettiamo in una terrina. Gli mettiamo sulle patate. Mettiamo questo sughetto vattuto. Una spolverata di formaggio. Una sprozzatina di olio sempre. D'oliva. Adesso andiamo a infornare. Per 15 minuti. Adesso 15 minuti sono trascorse. Tiriamo fuori la terrina. Andiamo a servirla. Lo serviamo con del rosmarino fresco. Il piatto è pronto. Grazie. 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 Grazie.